Supereremo questi giorni difficili e faremo in modo che situazioni simili non si ripetano in futuro. A parlare il presidente della regione Basilicata Vito Bardi in un video messaggio ai Lucani pubblicato sui social e incentrato sull'emergenza idrica vissuta in particolare nell'area del Potentino. In particolare il presidente Lucano ha voluto rassicurare la comunità sui controlli relativi alla qualità dell'acqua del Basento. Le prime analisi, ha aggiunto Bardi, evidenziano che l'acqua può essere prelevata per poterla potabilizzare in linea con quanto regolamenta il codice dell'ambiente. Infatti, ha poi concluso il governatore, le caratteristiche dell'acqua presa in esame sono uguali a quelle dell'acqua dei maggiori invasi della Basilicata, a cominciare dal Camastra. È un momento complesso, ma lo stiamo affrontando con pragmatismo, impegno e massima attenzione. Comprendo profondamente le difficoltà che questa crisi idrica sta causando a ciascuno di voi. Le carenze manutentive del sistema idrico in passato sono sempre state celate dall'abbondanza di pioggia e neve. Abbiamo già avviato un programma di opere per combattere la dispersione idrica e concertare azioni con il Governo per aumentare l'efficienza delle nostre dighe. In questi giorni sono in corso lavori per portare acqua dal fiume Basento all'invaso del Camastra. Una scelta necessaria perché il Basento rappresenta la risorsa più vicina e adeguata a garantire l'acqua necessaria. Utilizzare le acque superficiali per la potabilizzazione è una prassi consolidata e sicura. Così avviene anche nei territori dove scorre il Po.